Prima fila, Magazine Dal 16 al 20 novembre al teatro ITC di San Lazzaro si apre la stagione teatrale con il nuovo spettacolo della Compagnia del Teatro dell'Argine. Nuovo spettacolo che in realtà non è poi nuovissimo perché è una ripresa di un vecchio spettacolo che avete deciso di ritirare fuori dal vostro bagaglio di produzioni. Si chiama repertorio, ecco in gergo tecnico, diciamo la giusta. Spettacolo che tra l'altro io ho visto quando avete fatto la prima qualche anno fa e sono contento che ritorni. La regia di Andrea Paolucci, The Shoe Must Go On, gioco di parole in inglese, The Show Must Go On, ma The Shoe sono le scarpe che sono le vere protagoniste di questo spettacolo. Hai fatto bene a ricordare l'inizio di questo progetto che nasce in realtà per volontà di una fondazione, l'Amelia Foundation, che tanti anni fa finanziava progetti che usavano il teatro per far dialogare i giovani provenienti da varie parti del mondo. Quindi diciamo che il progetto aveva il teatro come strumento, non come fine. In quel momento avevamo a mano un gruppo di giovanissimi diciottenni, più o meno, grosso modo, poco più poco meno, proprio che avevano un background di migrazione, prima e seconda generazione. Quindi fare uno spettacolo con loro che avesse il teatro come punto di partenza era un esperimento anche per noi. Quindi niente parole, per esempio, quindi uno spettacolo che sia loro sul palco che i propri spettatori, magari appunto non parlanti della lingua italiana, potevano capire bene. E anche con la volontà di costruire insieme a loro la dramaturgia e il linguaggio teatrale. Da quel laboratorio che poi diede vita appunto a una sorta di studio di primo spettacolo, abbiamo ottenuto la trama, che è la parte meno interessante, ma anche quelle tecniche di teatro di figura, teatro d'oggetto, in scena ci sono decine e decine di scarpe. La trama è molto semplice, è una scarpa bianca che si innamora di una scarpa rossa in un mondo pieno di scarpe nere. E i nostri, in questo caso sei baldi attori del teatro dell'Argine, tutti i professionisti in questa ripresa quasi nuova produzione, manipoleranno, giocheranno, lanceranno, nasconderanno, faranno parlare, indosseranno. In un grande, spero, viaggio poetico intorno a quelle parole che oggi purtroppo sono anche molto vicine a noi, perché si ambienta tutto in qualche modo in un clima di guerra, si ambienta in qualche modo in un clima di restrizioni dei diritti. Sì, quindi giochiamo con un linguaggio sicuramente adatto anche ai più piccoli. Lo spettacolo è anche inserito nella nostra società, è stato ragazzi ed è pensato per un pubblico che parte dagli undici anni in su. Però ecco, i temi sono quelli che sempre passionano la compagnia, cioè momenti di riflessione attraverso la poesia, l'arte e speriamo anche in questo caso il divertimento. Io vi consiglio di vedere questo spettacolo al teatro ITC di San Lazzaro, è uno dei gioiellini della compagnia del teatro dell'Argine. Andrea lo sai, te ne ho già parlato, questo e gli Equilibristi sono le tue regie che mi sono piaciute di più tra tutte quelle che ho visto. E questo spettacolo è davvero molto intelligente, non ci sono parole, ci sono solo movimenti, ci sono suoni, musiche, oggetti, scarpe appunto in scena che sono mosse da sei attori, che sono bravissimi nel non farsi mai vedere ma nel far vedere tutto quello che accade in questa vicenda. Storia appunto come dicevi semplice ma toccante, bella, emozionante, fa molto ridere anche e quindi vi consiglio di vedere a San Lazzaro lo spettacolo The Shoe Must Go On, regia di Andrea Paolucci. Grazie Andrea. Grazie a voi.